Potrei sembrare ironico in quello che sto per dire ma finalmente Konami ha fatto una cosa giusta all'interno di Master Duel Benvenuti ragazzi miei qui da Diego in questo nuovo video Oggi c'è stato un nuovo aggiornamento di Master Duel Che oltre appunto a ringraziare gli utenti per i 30 milioni di download E quindi regalare 1000 gemme che troviamo nella sezione missioni Da poter andare a riscattare in qualsiasi momento noi vogliamo da qui in avanti per 63 giorni Io le vado a riscattare ora grazie mille Finalmente sono tornati anche un pochettino di regali Ma finalmente Konami ha riconosciuto un problema del gioco e l'ha risolto Un problema che andava avanti da gennaio da quando era uscito Ragazzi miei finalmente non potrà più venire usato il coin toss glitch Cos'era questo glitch? Ne avevo parlato un pochettino sul canale ma non avevo mai spiegato come andare a usarlo Chiaramente non è che sono stupido e mi vado a rovinare il gioco da solo Adesso però ve lo spiego perché Konami ha finalmente fissato questa cosa Quando iniziavamo una partita e si andava a perdere la moneta dal punto di vista di un cheater Di un abuser di questo glitch Potevi andare a chiudere semplicemente il gioco quando vedevi che la moneta veniva lanciata E tu la perdevi Per non giocare quella partita Non ricevere penalità e appunto far semplicemente perdere tempo all'altra persona Questa cosa era usata per non rischiare di perdere Perché chiaramente se vai primo c'è molta più possibilità che tu riesca a vincere in questo gioco Soprattutto nel momento che è best of one la partita Quindi non c'è una partita al meglio delle tre nel gioco Ergo da gennaio fino ad oggi praticamente C'è sempre stata gente che andava a usare questo glitch E chiaramente non erano mai stati puniti Da oggi invece chi andrà a utilizzare questo glitch riceverà una bella sconfitta Però al contrario non leggo che l'altro giocatore riceverà una vittoria E questa cosa è un po' così Nel senso Ok perché dare la sconfitta a lui e non dare la vittoria a quell'altro Però è già un qualcosina È già un qualcosina perché vuol dire che da qui adesso le persone smetteranno di usare questo schifo di glitch Detto questo non c'è nessun'altra novità all'interno del gioco purtroppo però Ci sono state solamente date mille gemme e hanno fixato quel glitch lì Non ci sono nuove solo mod Mi aspettavo che a dire il vero ne mettessero una per oggi Però a quanto pare non è ancora il momento Però vedete si fanno già dei piccoli passi in avanti E speriamo che continueranno a farne Speriamo me lo auguro Detto questo fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate Di questo finalmente fix del gioco E mi raccomando lasciate anche un mi piace per supportare il canale È importantissimo mi raccomando mi raccomando In descrizione trovate Twitch dove stremo ogni giorno E anche Inside Collector Qualora voleste andare a comprare carte di Yu-Gi-Oh Supportandomi con il codice Diegub C'è sempre a fantasmi del passato in preordine Quindi anche lì se volete tentare la fortuna E trovare una bella ghost Magari provateci Qui di Diegub per oggi è tutto Noi ci vediamo più tardi in live Ciao ragazzi